Noi dobbiamo portare qui sempre banda larga, mobilità, infrastrutture anche immateriali. Il nostro obiettivo regionale è di avere uno sviluppo equilibrato di tutto il territorio della regione. Non possiamo più avere la tendenza del passato, congestione sulla fascia costiera, desertificazione e l'area interna. Dobbiamo creare qui le condizioni per lo sviluppo. Sapete che abbiamo qualche giorno fa presentato un programma di investimenti sulla viabilità che riguarda l'Irpinia per 214 milioni. Dunque stiamo facendo, credo, un buon lavoro per tutta l'Irpinia. Presidente, bene le innovazioni ma l'artigianato, quanto può essere importante per un territorio interno come l'Alterpinia? Credo di grandissima importanza. Ovviamente dobbiamo legarci sempre a produzioni di qualità, ma credo che ci sia un mercato molto forte per un artigianato di qualità. Parliamo di un altro artigianato che è un vanto anche dell'Irpinia, nella zona bassa dell'Irpinia, solo frano. Se vedete le lavorazioni di pelli, qualche anno fa sembravano fuori mercato. Poi l'innovazione tecnologica fa del pellame che si produce qui, comunque è un prodotto di eccellenza. Così per tutti i prodotti di artigianato. Ovviamente se parliamo poi di agroalimentare, qui veramente possiamo vantare cose straordinarie. Poi Epifani da Avellino, suo ex compagno di partito, ha detto da De Luca solo annunci, parlava di ex irisbus ma non solo. Diceva solo milioni ma poi non si vede nulla di concreto. Ah, 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 così ha detto. Era evidentemente un po' stanco. Ne abbiamo parlato adesso di cose concrete, a cominciare da 214 milioni di euro per la viabilità nell'Irpinia, 26 milioni per l'Alta Irpinia. Poi gli manderò un bel resoconto della nostra attività. Poi gli manderò un bel resoconto della nostra attività.